Ed ora un'altra notizia, ci spostiamo nella Ravennate, era investito circa 13 milioni di euro per un impianto all'avanguardia in Europa, si tratta di fanghi industriali e loro smaltimento e trattamento relativo naturalmente. Sentiamo Tommaso Costa. Ridare vita ai rifiuti ricavando valore dal fango e contribuire allo stesso tempo alla salvaguardia dell'ambiente con la massima sicurezza per la protezione del suolo e con il contenimento delle emissioni. Tutto questo è possibile grazie a Disidrat, l'impianto di trattamento fanghi industriali che è stato inaugurato a Ravenna e che raddoppia la quota di materiale recuperata. E' stato realizzato in due anni con un investimento di 13 milioni di euro. Certamente la più grande di questa tipologia di finalizzazione appunto allo smaltimento dei fanghi e a livello europeo come dimensione e importanza. Certamente dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di rifiuti il tema non si esaurisce con la tematica dei pur importantissimi rifiuti urbani. Nei dieci anni di vita di ERA su questo settore abbiamo investito circa 800 milioni, quindi una cifra assolutamente molto forte. Naturalmente questa cifra è una risposta al tema degli urbani e degli speciali. Gestita da ERA Ambiente, società del gruppo ERA per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ogni anno tratterà 150.000 tonnellate di rifiuti speciali, liquidi e solidi, pericolosi e non, che rientrano nella categoria dei fanghi. La struttura si inserisce tra le eccellenze europee del settore per la varietà dei rifiuti trattabili per dimensione e caratteristiche tecnologiche. Attraverso questo impianto, oltre ad offrire una capacità di trattamento, riusciamo a migliorare le performance ambientali che pure erano importanti, ma non come saranno con queste del vecchio impianto. Infatti contiamo di elevare notevolmente le percentuali di recupero, per recupero intendiamo la possibilità di trattare questi fanghi e una parte di questi fanghi poterli far ritornare utili nel ciclo produttivo come materiale tecnico. È anche importante sottolineare che se aumentiamo le percentuali di recupero diminuiamo la necessità di smaltire rifiuti in discarica. Se il vecchio impianto recuperava attorno al 25% del materiale, con il nuovo si raddoppiano le performance. La conseguenza è una netta riduzione dei conferimenti in discarica, il tutto però nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle regole ambientali.